Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Si parla senz'altro di Harry Potter, si parla delle vesti della serie tv perché per la prima volta se n'era già sentito parlare, anzi un paio d'anni, perché è dal 2021 che si parlò di questo, anche se le cose stanno venendo fuori adesso, molti non lo sapevano per niente, ma adesso è ufficiale per tutte quelle voci che hanno sempre girato, adesso c'è l'ufficialità. La saga di Harry Potter, dopo il grande successo cinematografico, approderà anche in tv. L'arrivo di una serie certa e sicura al 100% e a trasmetterla sarà Max, cioè la nuova piattaforma in streaming dei HBO. La storia si atterrà fedelmente a quella narrata nei libri, non mancherà infatti la supervisione dell'autrice Ilunga K. Rowling, che rivestirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. Si cerca adesso uno sceneggiatore in grado di trasformare il romanzo in telefilm, mantenendone inalterata la magia. La nuova serie tv, adattamento fedele ai romanzi, si comporrà di sette stagioni, uno per ogni libro della saga letteraria. Se la piattaforma è certa, la neonata nata, o meglio ribrandizzata, Max di HBO, la data di uscita è ancora tutta da vedere. Attualmente, si è alla ricerca di uno sceneggiatore e, ipotizzando il suo arrivo entro l'estate, le riprese non inizieranno prima di Natale 2023. Bisognerà frenare l'entusiasmo e aspettare almeno un paio di anni, allora, prima di poter rivivere le magiche avventure di Harry, Ron, Hermione e compagni anche sulla Smart TV casalinga. Magari l'occasione saranno proprio le festività natalizie, ma quelle del 2025. Nel frattempo, ci si potrà consolare con un rewatching di Animali Fantastici, serie di successo tratta anch'essa dall'universo Hogwarts. Il punto che maggiormente cattura l'attenzione è il cast. Chi saranno i nuovi interpreti dei famosi maghetti? Di certo, non potranno essere gli ormai adulti attori dei film, che magari ci regaleranno un cameo, chi lo sa. Il casting è aperto e chissà cosa riserverà, se anche la serie come i film porterà la stessa fortuna ai suoi interpreti. Il CEO di HBO Casey Blois ha ribadito che, la serie è qualcosa di nuovo e siamo entusiasti. Ma ricordatevi una cosa, questa non è una decisione inedita, lavoriamo al mondo di Harry Potter da 20 anni. Ne ha fatta di strada il maghetto nato dalla fantasia di una casalinga delle campagne inglese, dal suo esordio in libreria, Harry Potter si è trasformato in uno dei brand più remunerativi al mondo. Dai libri, pubblicati in tutto il mondo in numerose edizioni e riedizioni, si è poi passati ai film, tutti in grado di sbancare il botteghino. Ancora, ci sono il merchandise, dalla t-shirt ai cappellini fino a giocattoli, bacchette e giochi da tavolo, i parchi tematici, gli spettacoli a Broadway e i videogiochi, l'ultimo, Hogwarts Legacy, è fresco di un enorme successo. In televisione, recentemente, c'è stata la speciale reunion del cast originale per i 20 anni di Harry Potter e la pietra filosofale, il primo capitolo della saga amata da grandi e piccini e, in seguito, uno speciale con il trofeo delle case di Hogwarts condotto dalla celebre attrice premio Oscar Ellen Mirren. La fedeltà alla storia originale sarà garantita dalla supervisione dell'autrice Ilunga K. Rowling. Non vedo l'ora di far parte di questo nuovo adattamento che permetterà un grado di profondità e dettagli che solo una serie tv può offrire, ha dichiarato la scrittrice. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento, basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci, tanto pago io, che me frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.